Intanto grazie a tutti per la partecipazione, questa è la prima tappa di una serie di tappe che insieme col gruppo regionale faremo per scrivere insieme il programma regionale per le prossime elezioni. Oggi parleremo principalmente di energia ed economia circolare e agricoltura. Queste due tematiche sono due tematiche importanti per questa nostra provincia e vorrei citare solo due esempi per ognuna di queste due tematiche. Tutti sappiamo, tutti conosciamo la discussione che c'è in corso rispetto all'incenditore della nuova cartiera o della riapertura della cartiera Exburgo a qualche chilometro da qui. E questo è un tema che riguarda l'energia, perché questo incenditore serve o dovrebbe servire per produrre energia. E quindi una pianificazione anche regionale di come produrre energia, di cosa e quanta energia produrre in un'ottica di 10-20 anni è secondo me pregnante, riguarda anche la nostra provincia e le discussioni che sono in corso di attualità nella nostra provincia. E poi l'altro tema, oltre all'economia circolare, è l'agricoltura. E noi qui siamo una provincia a vocazione agricola. L'agricoltura e la zootecnia sono due importantissimi strumenti e importantissime sezioni che fanno parte delle attività produttive che caratterizzano la nostra provincia. E noi oggi vogliamo anche qui porre alcune riflessioni, alcuni ragionamenti sull'agricoltura e sul modo di fare agricoltura. E come lo faremo? Lo faremo con alcune nostre proposte, ma soprattutto lo faremo con alcuni esperti del settore. Perché vogliamo essere realisti, perché vogliamo calare il programma nella realtà, e nel realtà locale non solo. E quindi ci avvarremo del supporto di due esperti che hanno esperienza, ripeto, del settore che poi presenterò sul palco. E per quanto riguarda l'agricoltura parleremo di come riuscire a valorizzare il ruolo dell'agricoltore anche come colui che tutela il territorio e l'ambiente, come uno dei primi attori che può tutelare il territorio e l'ambiente. Questo però gli deve essere riconosciuto, anche dal punto di vista economico. E poi ragioneremo sulla situazione attuale, la situazione attuale di come vengono spese le risorse, europee e non solo, e di come potrebbero essere impiegate meglio, soprattutto ragionando su quella che è l'esperienza attuale, diretta, di chi vive tutti i giorni, per lavoro, per professione, questo tipo di problematiche, che è quello che poi faremo con gli esperti. E in più ragioneremo anche su un altro tema importante che riguarda la nostra provincia, che è sempre stato molto approfondito, che è quello da noi molto approfondito, che è quello della proliferazione di una tecnica di spandimento fanghi in agricoltura. E ragioneremo come questo si può, con alcune, secondo me, buone pratiche, limitare, soprattutto limitare l'importazione, cioè quello che noi importiamo da altre regioni, quindi che non è cosa nostra, che non è cosa che produciamo noi ma che viene importata, che viene importata per logiche molto puramente economiche, soprattutto economiche, e ragioneremo anche di come questo può essere limitato con alcune idee, con alcune protoste. Poi tutto questo nel pomeriggio ci divideremo con chi vorrà in tavoli di lavoro e approfondiremo gli spunti di riflessione che sono venuti fuori questa mattina. Io cedo la parola a Gianmarco Corbetta, che è un mio collega consigliere regionale della Commissione Ambiente e che principalmente ci esporrà le bozze di programma energetico regionale e le bozze di studio sull'economia circolare. Grazie. Ciao a tutti, oggi il mio compito è quello di iniziare a parlarvi delle idee che potremo mettere in campo alle prossime tornate elettorali in regione Lombardia per quanto riguarda i rifiuti, l'economia circolare e l'energia. Faccio un accenno su quello che ci ha portato fino ad oggi sostanzialmente. Noi circa un anno e mezzo fa ci siamo imbattuti per caso, proprio a livello informativo, sul web, in un'esperienza molto interessante che è stata fatta ed è ancora in corso in una regione francese che si chiama Nord-Pas de Calais, è una regione a nord della Francia. E lì hanno fatto una cosa che ci ha affascinato molto. hanno fatto sostanzialmente un programma basato sulla terza rivoluzione industriale, cioè sull'idea di un economista molto famoso americano che si chiama Jeremy Rifkin. E lì sostanzialmente queste teorie di Jeremy Rifkin le hanno prese veramente molto sul serio. Hanno il governatore della loro regione che lo ha invitato lì, hanno fatto delle conferenze, hanno capito bene di che cosa si trattava e hanno deciso tutti insieme di andare avanti su quel tema. Hanno coinvolto tutte le parti sociali, gli imprenditori, i sindacati, le scuole, le associazioni. E da lì sono partiti, hanno proprio scelto anche uno slogan che si chiama In marcia verso il futuro e sono partiti con questa terza rivoluzione industriale, dove sostanzialmente c'è tutta una regione coinvolta in maniera molto forte e molto impante. Che cos'è quella terza rivoluzione industriale che loro stanno facendo? Sono sostanzialmente, è una rivoluzione che riguarda l'energia, quindi puntare molto sulle rinnovabili, sull'efficientamento energetico degli edifici, sulle smart grid, sui sistemi di accumulo, tutto quello che riguarda l'economia digitale, l'internet of think, la stampa 3D, l'economia circolare, rifiuti zero, l'economia della condivisione, la sharing. Quindi stanno veramente cambiando il modo di vedere la propria società e la propria economia. E tutto questo è una svolta non solo green, non è solo una questione ambientale, poi anche dei risvolti economici e occupazionali molto importanti. Loro hanno fatto un piano al 2050, quindi non guardano come dire dall'oggi al domani come succede spesso in Italia. E hanno calcolato che occorre per portare avanti questa rivoluzione un investimento al 2050 di 200 miliardi di euro, ma che porta a risparmi di 320 miliardi di euro, dovuti soprattutto all'efficientamento energetico e alle rinnovabili. E quindi hanno un saldo positivo di 120 miliardi di euro, a fronte di uno scenario fossile, che se fossero andati avanti normalmente a fare le cose che si erano fatte fino adesso, una spendita di 400 miliardi di euro senza nessun ritorno. E anche a livello di posti di lavoro, lì hanno calcolato un saldo positivo di 165 mila posti di lavoro a una regione di 4 milioni di abitanti, a fronte di uno scenario fossile, come se fossero andati avanti normalmente, diciamo, come nel passato, di una perdita di 102 mila posti di lavoro. Quindi hanno veramente fatto una rivoluzione che non è solo una rivoluzione ambientale, ma è anche una rivoluzione economica, ma anche di mentalità delle persone, di approccio, come dire, alla propria società, eccetera, eccetera. Questa cosa ci ha affascinato molto e abbiamo deciso l'anno scorso di approfondirla. Proprio in aprile dell'anno scorso a Milano abbiamo fatto un convegno sulla terza rivoluzione industriale nel Nord Pas de Calais, abbiamo avuto con noi degli ospiti che hanno seguito da vicino quell'esperienza francese, ce l'hanno spiegata, ci hanno dettagliato un po' tutte le mosse che sono state fatte. Insomma, ci è piaciuto molto questa idea. Abbiamo detto, ma perché non proviamo a ragionare anche sulla Lombardia un'esperienza di quel tipo? Perché non riusciamo a provare ad immaginare quello che potrebbe essere anche in Lombardia un percorso di quel tipo? Però ci vogliono ovviamente dei dati concreti, perché un conto è fare degli slogan, annunciare dei principi molto generici, però un conto è poi riuscire a calarli nella nostra regione, cosa che ovviamente non era alla nostra portata. E quindi abbiamo deciso di commissionare un paio di studi ad una società di consulenza specifica che ci potesse dire come ci si poteva muovere concretamente su quelli che sono i due grossi pilasti della terza rivoluzione industriale che viene fatta questa regione, che sono appunto l'economia circolare e l'energia. Poi ripeto, ci sono anche tante altre cose, però diciamo il grosso sono questi due temi. Quindi su questi noi ci siamo concentrati. E da qui appunto sono nati l'idea di commissionare questi due studi che non sono come dire delle Bibbie intucabili, ma sono delle proposte di lavoro che siamo qui a condividere con tutti voi per capire se siamo sulla strada giusta, se c'è da rivedere qualche passaggio o meno. Io adesso in tutto ho mezz'ora, in realtà 25 minuti ormai, quindi saranno degli accenni molto rapidi e vi darò delle informazioni necessariamente di carattere generico. Poi però nei prossimi giorni pubblicheremo questi dati sul nostro sito, avrete la possibilità di visionarli e anche di commentarli. Apriremo poi ovviamente la possibilità di un confronto anche a livello di web. Allora, partiamo con il primo di questi due studi che è quello sullo sviluppo dell'economia circolare. Qui sostanzialmente siamo andati a chiedere a questa società che ci aiutasse a delineare uno scenario di economia circolare tarato sulla Lombardia. Quindi quali sono i benefici economici che possiamo attendere, quali sono gli benefici ambientali, quali sono i benefici sociali, quali passi bisogna fare concretamente per andare verso questa direzione e via discorrendo. Andiamo pure sulla slide 3. Quindi questo studio ha una prima parte di inquadramento generale sul tema che poi, ripeto, ritroverete sul nostro sito se avete voglia di andare a vederlo. Poi una seconda parte di identificazione degli obiettivi e delle strategie di intervento e dell'ineazione. E sostanzialmente le strategie di intervento sono di due tipi. Una sul settore dei rifiuti, naturalmente, quando parliamo di economia circolare parliamo di rifiuti zero, sostanzialmente. Ma l'altra gamma importantissima dell'economia circolare è quella della riprogettazione industriale. Cioè riuscire a lavorare anche sulle filiere produttive in modo tale che queste filiere siano sostanzialmente circolari e quindi non producano tendenzialmente rifiuti durante i vari cicli di vita. Quindi queste qui sono le due grosse linee che siamo andati a verificare. Vai pure su pagina 5, Andrea. Quali sono quindi i temi di intervento? La progettazione dei prodotti, i modelli di mercato e di impresa, i metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse, le modalità di consumo. Ovviamente deve cambiare anche un approccio comportamentale da parte dei cittadini. Per cui è proprio un'idea di cambiamento sistematico e di approccio molto innovativo sostanzialmente. Vedete questa immagine, non so se riuscite a leggerla, che c'è su questa slide. Si parte dalle materie prime. Bisogna lavorare sulla progettazione, bisogna lavorare sulla produzione e sulla riproduzione industriale, bisogna lavorare sui sistemi di distribuzione delle merci, sul consumo, sull'uso, sul riutilizzo, sulla riparazione, poi sulla colta di quelli che sono i materiali post-consumo e poi sul riciclaggio. Qui l'idea tendenzialmente è quella di avere un circolo chiuso, da qui l'idea di avere l'economia circolare, in modo tale che i rifiuti residui, gli scarti, tendano sostanzialmente allo zero. Noi siamo, vi ricordo, in un paese, ma anche in un'Europa, dove le materie prime sono scarse. Noi dipendiamo per le produzioni dall'importazione di materie prime da altre parti del mondo, che diventano sempre più risorse rare e a un costo prezioso. Quindi non ci possiamo neanche più permettere, anche solo facendo un calcolo banalmente economico, di bruciare o di mandare in discarica dei materiali che possono invece essere riutilizzati. Pagina 7. Benefici attesi in Lombardia. Anche qui è stato importante capire, proprio per quel discorso che facevamo prima, che non parliamo solo di ambiente, ma parliamo anche di economia, di occupazione e via discorrendo, quali potrebbero essere i benefici di questo programma. e i benefici attesi a livello di crescita economica sono pari a 5 miliardi di euro in 10 anni. Quindi non è cosa da poco, assolutamente. E probabilmente sono proprio questi dati quelli che fanno più presa sui cittadini nel momento in cui andremo a comunicare i nostri programmi. Quindi con un incremento medio anno di circa 500 milioni di euro. Come benefici occupazionali si stima la creazione di 16 mila posti nuovi di lavoro al 2030, aggiuntivi, e anche una riduzione significativa delle emissioni di CO2, ovviamente, perché i processi produttivi vengono razionalizzati. Dopodiché andiamo pure a pagina 10, direi. Tutto quello che riguarda la fase di riprogettazione e ottimizzazione industriale, noi abbiamo cercato di capire su quali settori in particolari a livello lombardo si poteva lavorare ed erano quelli più, come dire, promettenti da questo punto di vista. E sono stati individuati questi settori, l'agroalimentare, il settore della fabbricazione dei macchinari e delle parecchiature elettroniche ed elettriche, il settore di tessile e moda, il settore legno arredo, il settore delle costruzioni, il settore della mobilità e dei trasporti. Queste sono quelle più suscettibili rispetto a questa idea di ottimizzazione delle varie fasi del ciclo produttivo. Vai pure alla 11. Qui c'è un esempio di uno di questi settori. Il primo che abbiamo citato è quello agroalimentare. Abbiamo individuato 7 azioni possibili, ritarate sul settore agroalimentare, che vi accenno in maniera molto rapida. Quindi l'azione 1, migliorare e valorizzare la qualità della produzione agricola del territorio e promuovere la filiera corte e la valorizzazione dei prodotti locali. Azione 2, ridurre la produzione dei rifiuti organici. Azione 3, ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani organici. Azione 4, favorire l'attivazione di progetti innovativi e nuova occupazione per l'offerta dei servizi di prevenzione e per la gestione di alcuni flussi particolari di rifiuto da scarto alimentare. Azione 5, promuovere l'utilizzo sul territorio del compost di qualità prodotto dal trattamento delle frazioni organiche. Azione 6, creare competenze locali attraverso la via di percorsi di formazione, di informazione ed educazione ambientali, rivolto al mondo delle imprese, dei cittadini e delle scuole. Azione 7, valutare e monitorare il livello di circolarità raggiunto dal sistema e poi eventualmente ritarare le azioni. Questo è un esempio di quello che questo programma prevede e su ogni settore che abbiamo elencato prima ci sono delle azioni specifiche da portare avanti. Poi c'è l'altra gamba di cui parlavamo prima, cioè i rifiuti zero. Su questo all'interno del movimento c'è poco da studiare perché siamo esperti di rifiuti zero. È forse il tema su cui ci siamo concentrati fin da quando siamo nati e molti di noi sanno bene di cosa stiamo parlando. Quindi qui ci siamo dati degli obiettivi tarati sulla nostra regione di riduzione dei rifiuti. Quindi ci siamo dati come obiettivo al 2020, quindi anche in un lasso di tempo molto breve, ridurre la produzione pro capita dei rifiuti di 30 kg per abitante all'anno. Fare un'azione di preparazione al riutilizzo, quindi conseguire almeno il 2,6% di rifiuti urbani a riutilizzo, sempre al 2020. Raccolta differenziata porta a porta ovunque, ancora purtroppo non è così in tutte le parti della nostra regione. So che voi qui a Mantua siete bravissimi, ma basta spostarsi nel Pavese, in Olanda, giusto che la situazione è ben diversa. Quindi raggiungere l'85% di raccolta differenziata su tutto il territorio regionale entro il 2020. Porta a porta diffuso, tariffa puntuale, paghi tanto quanto scarto non recuperabile produci, questo è uno stimolo molto importante per i cittadini. Trattamento corretto della frazione organica verde, recupero di materiale di riciclaggio, eccetera. Adesso il tempo è tirano, quindi devo andare un po' veloce. Però l'idea è quella di minimizzare e recuperare la materia dal rifiuto residuo. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di avere 65 kg per abitante all'anno di rifiuto residuo. Ci sono già esperienze che vanno anche sotto, a 50 kg. Ci sono dei comuni, dei territori fuori dalla Lombardia che si sono dati anche l'obiettivo di arrivare a 30 kg. Quindi non siamo neanche stati particolarmente radicali nel darci questi obiettivi di medio-breve periodo. E ovviamente abbandono dell'incenerimento e azzeramento dei rifiuti portati alla pratica dell'incenerimento e chiaramente anche della discarica. Andiamo pure avanti velocemente, andiamo a pagina 19. Ecco, in questo schema si vede bene come siamo messi, o meglio, quali sono gli obiettivi dell'attuale piano regionale rifiuti della Giunta Maroni, quello che loro hanno deciso di voler fare al 2021, la prima riga, e quello che ci prefiggiamo noi con il nostro piano. Vedete le differenze, quindi nella prevenzione loro si sono dati l'obiettivo di avere 1,4 kg per abitante anno rispetto al 2015. Noi invece ci diamo l'obiettivo di avere una riduzione di 30 kg all'anno. Raccolta differenziata, l'obiettivo del piano regionale di Maroni è il 67% di raccolta differenziata. Noi ci diamo l'85% di raccolta differenziata. Riciclo effettivo, perché poi nella raccolta ci sono anche gli scarti che poi vanno a smaltimento. Riciclo effettivo, Maroni 65%, noi ci diamo l'80% come obiettivo di riciclo effettivo. Recupero energetico, tendenzialmente a zero per noi, il 21% per il piano regionale attualmente in essere. Discarica 10,5% dei rifiuti urbani, trattati e stabilizzati secondo il piano regionale, solo gli scarti di trattamento, quindi una riduzione ulteriore. Poi, qui dobbiamo andare un po' veloci perché il tempo passa, ma direi che su questo primo studio sostanzialmente le cose importanti le abbiamo dette. No, c'è una cosa importante ancora a dire, vai a pagina 28 Andrea, che tutto questo poi è delle ricadute anche sui costi dei servizi ai cittadini, perché poi anche gira e rigira sempre di soldi si va a parlare con i cittadini e questi sono i temi su cui loro pongono l'attenzione. Tutta questa impalcatura porta anche a una riduzione dei costi complessivi dei servizi di raccolta e di smaltimento. Quindi, quelle cose che noi ci sentiamo sempre dire, magari nei consigli comunali, quando proponiamo la tariffa puntuale, quando proponiamo di potenziare la raccolta differenziata, che ci vengono sempre a dire, eh ma costa, ma poi chi glielo va a dire ai cittadini che gli aumentiamo le tariffe, sono palle. Sono palle, a parte che lo dice anche la Regione Lombardia con uno studio, e se volete ve lo porto, ma lo dice anche il nostro studio, perché così facendo noi andiamo sostanzialmente a portare una riduzione del costo complessivo e dei servizi di gestione integrata, dei rifiuti di 56 milioni di euro rispetto ad oggi, con un meno 4.8% e di 43 milioni di euro rispetto agli scenari previsti dal piano regionale dei rifiuti. Quindi per i cittadini il costo pro capite scenderebbe, è una media ovviamente, da 109.20 euro ad abitanti a 103.9. Non è tanto, però la tendenza è comunque ad abbassare le tariffe, anche facendo tutte queste cose. Niente, direi che passo all'altro... Vai scusami, vai a pagina 31, qui molto rapidamente, crescita occupazionale attesa, lo scenario attuale al 2015 sono 14 mila posti di lavoro, lo scenario previsto dal piano regionale attualmente in essere al 2021 17 mila posti di lavoro, il nostro scenario sempre al 2021 21 mila posti di lavoro. Quindi anche qui c'è una crescita occupazionale. Prima all'inizio abbiamo parlato di 16 mila posti perché era il 2030, qui stiamo parlando del 2021. Io direi che su questo, l'ultimissima cosa, pagina 33, in sintesi come conseguire questi obiettivi, cioè che cosa fare. Questa slide dice le cose macro che bisogna fare, quindi ottimizzare i sistemi di raccolta e di modalità di gestione dei centri comunali di raccolta, pay as you throw, cioè la tariffa puntuale, ricerca e sviluppo su tecnologie di selezione, riciclo nuovi prodotti, quindi anche l'impiantistica del riciclo va sicuramente ottimizzata e migliorata, investimenti in impiantistica per la selezione del riciclo, politica industriale di gestione dei rifiuti, incontro tra industria della gestione dei rifiuti e industria manifatturiera, qui devono parlarsi ovviamente perché se vogliamo chiudere il ciclo per forza di cosa devono parlarsi, nuovi modelli di produzione, consumo, uso, riuso, raccolta e riciclo, e poi ovviamente c'è anche la parte normativa che è importante e lo sviluppo anche dei mercati delle materie secondarie, per esempio il fatto che le pubbliche amministrazioni devono sempre di più orientarsi verso acquisti verdi e capacità ovviamente di visione e di pensiero creativo. Ok, chiudiamo il capitolo economie circolare e apriamo quello energetico. Ho dieci minuti, spero di riuscire a darvi un po' il quadro generale. Allora, la prima cosa da dire è che noi il piano energetico lo stiamo facendo anche a livello nazionale, uno dei punti più importanti è quello su cui abbiamo anche avuto molte informazioni sul blocco di Beppe, c'è stata la possibilità di discutere, di valutare vari aspetti eccetera eccetera. Quindi quello che noi abbiamo detto semplicemente è allineiamoci al piano nazionale del Movimento 5 Stelle sull'energia. Cioè non vogliamo fare niente di diverso perché non avrebbe senso avere un piano nazionale che dice una cosa e un piano regionale che ne dice un'altra. Abbiamo detto, tariamo sul contesto lombardo quelle che sono le indicazioni del piano nazionale energia del Movimento 5 Stelle. Voi sapete che il piano nazionale energia prevede al 2050 l'autosufficienza dalle fonti fossili, la decarbonizzazione del nostro paese, quindi chiudere con il petrolio, con il carbone, ma anche con il gas naturale. Quindi noi inizialmente abbiamo detto alle persone che ci hanno fatto questo studio, facciamo la stessa cosa anche noi. Quindi non è esattamente una cosa semplice per la Lombardia perché noi abbiamo delle caratteristiche diverse rispetto al contesto generale nazionale. Noi abbiamo una concentrazione di industrie anche pesanti e energivore molto forte. Quindi l'idea di avere una regione lombarda carbon free al 2050 a sé stante come se fosse un piccolo staterello, non ce la facciamo, cioè ci hanno detto guardate questa cosa qui non è possibile farla perché abbiamo delle caratteristiche particolari. Allora abbiamo detto giusto, ragioniamo però a livello di ottica nazionale. Se il nostro programma nazionale prevede come nazione, come Italia, la decarbonizzazione del 2050, noi diamo il nostro contributo come regione Lombardia all'interno di questo obiettivo. Quindi abbiamo necessariamente previsto anche una quota parte di energia verde da importare dalle altre regioni. perché altrimenti non ne uscivamo. Quindi come vedrete poi nelle slide successive, noi non usiamo più sicuramente il carbone al 2050, ci diamo questo obiettivo, carbone, petrolio, energie fossili, ma dobbiamo prevedere necessariamente un'importazione dalle altre regioni di una quota di energia verde, altrimenti stante le caratteristiche della nostra regione e della nostra economia non ce la facciamo. E poi un'altra cosa importante, queste sono linee molto tendenziali, molto di indirizzo. Poi da qui al 2050 il mondo dell'energia, le tecnologie cambieranno, ci saranno delle cose che noi non possiamo neanche immaginare in questo momento. Quindi per forza di cose abbiamo dovuto ragionare un po' sulle tecnologie attuali, confidando però che ci saranno sicuramente dei miglioramenti, delle innovazioni, che ci agevoleranno particolarmente in questo percorso e un po' appunto nel fatto di riuscire a immaginare un futuro che ancora per certi aspetti non c'è, per esempio come l'accumulo delle batterie nelle auto, che sicuramente avrà un'evoluzione nei prossimi anni. Pagina 2 Andrea, quindi è quello che vi ho detto sostanzialmente, decarbonizzazione al 2050, le direttrici su cui lavorare sono tre, quelle importanti, forte riduzione dei consumi energetici complessivi, quindi la razionalizzazione, a parità ovviamente di comfort, mettiamola così, di cittadini e imprese, però c'è tantissimo spreco energetico nel nostro, pensate solo agli edifici nella nostra regione, e quindi dobbiamo andare a razionalizzare, a razionalizzare molto l'utilizzo dell'energia per avere un fabbisogno energetico inferiore rispetto a quello che abbiamo, a parità, ripeto, di agio e di comfort per tutti. Poi un passaggio graduale al vettore dell'energia elettrica in diversi settori e usi finali e soprattutto un notevole incremento dell'impiego delle energie rinnovabili. Questi sono i tre macro settori, le tre linee guida su cui dobbiamo lavorare. Consumo energetico per settori, qui vedete lo storico dal 2005 al 2014, basti solo vedere sostanzialmente, guardate l'ultima colonna del 2014, la parte viola in alto è l'industria, la parte verde i trasporti, la parte azzurra il terziario e la parte rossa residenziale. Questi sono i quattro grandi settori su cui si impiega l'energia e più o meno si equivalgono tra viola, verde e rosso, quindi residenziale, trasporti e industria, per cui su cui bisogna andare a lavorare. Pagina 5, consumo energetico per vettori, sempre la fotografia dell'oggi, 2014, abbiamo il gas naturale che è il rosso, la base dell'ultima colonna, vedete che è molto, questo è fossile ovviamente ed è molto importante ancora oggi, poi abbiamo il blu l'energia elettrica, il verde sono i prodotti petroliferi, anche questi noi dobbiamo andare ad abbatterli, vedete il rosso e il verde sono fette veramente importanti, c'è anche un viola che forse voi non percepite che è il carbone, c'è addirittura ancora una piccola parte di utilizzo di carbone nella nostra regione. Pagina 8, sempre situazione attuale, provenienza dell'energia elettrica, vedete il blu, l'ultima colonna, la base è blu, il 14 è importata, quindi noi oggi stiamo importando come regione, sia dall'estero che da altre regioni, noi importiamo una buona fetta di energia ancora oggi, rosso, energia elettrica prodotta da fonti fossili, e anche qui noi dobbiamo lavorare per forza di cose, e verde, energia elettrica prodotta da rinnovabili. Poi andiamo sulla 10, la potenza elettrica rinnovabile installata nella nostra regione, noi oggi, vedete sempre la tendenza degli ultimi dieci anni, 2005-2014, quando noi parliamo di energia elettrica rinnovabile nella nostra regione parliamo soprattutto di idroelettrico, cioè le dighe sulle Alpi sostanzialmente, vedete che c'è questo zoccolo blu, che è quello che ci garantisce, come dire, l'apporto maggiore di energia elettrica da fonti rinnovabili, e poi dal 2009 in avanti vedete che è cresciuto molto anche il rosso, il rosso è il fotovoltaico, e poi ci sono aspetti, diciamo, residuali. Poi andiamo avanti velocemente, pagina 13, ecco, cosa prevediamo a livello di evoluzione dei sistemi? Partiamo dal settore civile, noi prevediamo di raggiungere una riduzione del 45% dei consumi, proprio per quello che vi dicevo di efficientamento dell'utilizzo energetico, quindi la prima cosa qui è razionalizzare e ridurre i consumi, altrimenti non ce la facciamo diventare rinnovabili, andare avanti solo con le rinnovabili, dobbiamo lavorare tantissimo sulla riduzione dei consumi. E aumentare appunto l'energia elettrica, si ritiene che l'energia elettrica possa raggiungere una quota del 45% contro il 14% attuale, quindi spingere molto sull'energia elettrica. Ovviamente saranno importanti, pagina 15, saranno importanti gli incentivi sulle detrazioni IRPEF, come ci sono, saranno anche da potenziare, da portare avanti, da stabilizzare e tutti gli interventi necessari per l'efficientamento energetico, come dicevamo. Pagina 16, settore produttivo. Settore produttivo, anche qui noi abbiamo ipotizzato una riduzione annua dei consumi pari all'11% annua. Quindi al 2050 l'idea è quella di avere un consumo nel settore produttivo pari al 30% rispetto all'attuale. E con l'idea anche qui di implementare l'utilizzo dell'energia elettrica fino al 55% del fabbisogno energetico complessivo contro l'attuale 45%. 19, trasporti. Trasporti qui è tosta, non utilizzare più le fonti fossili, la benzina è tosta chiaramente. Infatti qui diciamo che il settore dei trasporti è quello che sarà sottoposto alle modifiche più sostanziali. Quindi circa il 60% dei consumi del settore è allocabile al trasporto di persone, mentre il 40% è il trasporto di merci. Questa è un po' la ripartizione. Per quanto riguarda il trasporto delle persone, l'ipotesi che noi facciamo è di una crescita del mercato dei veicoli elettrici e ibedi del 25% anno rispetto all'anno precedente. E si suppone uno spostamento modale e un maggiore efficientamento del sistema sui trasporti pubblici, tali da passare ad una riduzione dei veicoli circolanti dai 6 milioni ai 5 milioni al 2050. Quindi necessariamente una politica energetica di questo tipo deve basarsi anche sull'efficientamento del trasporto pubblico, perché dobbiamo anche ridurre ovviamente le auto in circolazione. Pagina 20, evoluzione del parco autoveicoli. Anche qui vedete questa è veramente una rivoluzione importante. Al 2016 oggi abbiamo tutto verde che sono i veicoli tradizionali. Prevediamo che piano piano col passare degli anni subentrino anche i rossi e i blu, dove i rossi sono i veicoli ibridi e i blu sono i veicoli elettrici al 100%. Quindi una crescita forte dell'ibrido a partire dal 2020, mentre quella dei veicoli elettrici puri lo si avrebbe dal 25 in avanti. Questo è un po' lo scenario tendenziale che noi abbiamo pensato fino ad arrivare al 2050 con tutto elettrico. Ovviamente una questione importante su questo scenario sarà la riduzione dei costi dell'elettrico che si prevede con l'andare del tempo, l'introduzione e il potenziamento degli incentivi economici e il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica pubblica ovviamente. 22, veicoli commerciali. Lo scenario 2050 ipotizza che il 50% dei veicoli commerciali sia trazione elettrica, mentre nel trasporto dei veicoli industriali si prevede uno spostamento modale verso il trasporto ferroviario, che comporterà una riduzione dei consumi del 20%, che qui le merci devono passare sul ferro, altrimenti non ce la facciamo. Andiamo avanti. Pagina 24. Queste sono le riduzioni previste dei consumi energetici finali in Lombardia. Come vedete nel residenziale prevediamo un meno 40% di consumi, nel terziario meno 42%, nei trasporti meno 59%, nell'industria meno 30%, nell'agricoltura meno 20%, in totale meno 42%. Ritorno sempre su quel discorso che facevo, che la prima cosa da fare è la razionalizzazione dei consumi. Dopodiché andiamo a pagina 26. Al 2050 il consumo finale è previsto essere soddisfatto per il 50% di energia elettrica. Qui c'è 50, in realtà è 70, poi magari il pomeriggio vi spiego perché è cambiata questa cifra. Adesso non abbiamo molto tempo. 70% di energia elettrica. I prodotti di derivazione vegetale, solidi, liquidi e gassosi apporteranno una percentuale pari al 32%, le pompe di calore all'11%, il solare termico al 7%. Poi, vediamo, pagina 29. Le ipotesi di sviluppo del sistema energetico lombardo porteranno ad incremento dell'uso di energia elettrica in tutti i settori. Il contributo di energia elettrica passerà dal 24% attuale al 50% nel 2050. Quindi è un grande risvolto da questo punto di vista. Si considera che le coperture di edifici utili per il fotovoltaico ammontino a 120 km2. Quindi dobbiamo tappezzare di pannelli fotovoltaici tutto il tappezzabile, perché se no non ce la facciamo. E di ulteriori 30 km2 disponibili per l'installazione a facciata. La produzione energetica associata al totale degli impianti fotovoltaici installati ammonterà a 30 TWh. Allora, andiamo molto veloci. Ci sarà ovviamente un 32, ci sarà ovviamente un disallineamento giornaliero tra domande e offerta che può essere ridotto attraverso l'installazione di sistemi di accumulo. I sistemi di accumulo saranno importantissimi, perché spesso si produce energia rinnovabile quando non serve di giorno. E quindi lo sviluppo che sta già avvenendo dei sistemi di accumulo sarà una cosa assolutamente importante. Così come l'approccio prosumer, cioè proprio questo. Io produco la mia energia, ma me la trattengo e me la utilizzo quando serve. Non solo a livello di singolo, ma anche di reti, di piccole comunità di utenti. Quindi avere magari un quartiere che mette a fattor comune l'energia rinnovabile prodotta e ciascuno poi la usa nei momenti necessari. Quindi i sistemi di accumulo su questo sono importantissimi. Pagina 35. Ricadute occupazionali. Allora, anche qui, come dicevamo, è importante poi capire quali sono gli effetti non solo sul green, diciamo così, ambientali, ma anche poi sull'occupazione. Allora, qui le ricadute occupazionali sono stati ipotizzati posti di lavoro aggiuntivi generati da diversi settori di intervento. Efficientamento di lizio, efficientamento dei cicli produttivi, impianti solari termici, pompe di calore, biomassa solida, biocombustibili innovativi e impianti fotovoltaici. L'occupazione è espressa per unità lavorative annue. Una unità lavorativa annua rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno. Quindi due part-time sostanzialmente rappresentano una unità di ULA, unità lavorative annue. Vai alla dopo. Qui sostanzialmente si è visto che le unità lavorative annue saranno quasi 40.000, 39.360 posti di lavoro ogni anno occupati per le attività di installazione. Quindi, come dire, attività che si fanno una volta solo. Cioè io su un edificio intervengo una volta, piazzo il pannello fotovoltaico, non è che per anni, per 50 anni sono su quell'edificio lì. Ovviamente cambia. Quindi le unità lavorative sono circa 40.000 che si prevede ogni anno saranno necessarie per fare questo tipo di attività. E poi ci sono le unità lavorative annuo permanenti che sono quelle che invece poi serviranno per tutta la parte di fase di esercizio e manutenzione degli impianti. E sono al 2050 58.000. Quindi noi sostanzialmente al 2050 prevediamo di avere un aumento di occupazione di circa 100.000 occupati, che se vogliamo possiamo aggiungere i 16.000 dell'economia circolare, siamo sui 120.000 occupati che non sono proprio bruscolini in un contesto come quello lombardo. Io ho già sforato col mio tempo, per cui mi fermerai qui. Interazione, dibattito, confronto, domande. fisicamente nel pomeriggio, virtualmente, mettiamolo così, nei prossimi giorni sul nostro sito dove verranno caricati anche questi studi. Grazie a tutti per l'attenzione. Io chiamerei sul palco Gian Pietro Maccabiani, altro collega consigliere regionale della Commissione Agricoltura, così introduce il secondo tema della giornata, che è il tema dell'agricoltura, che poi verrà trattato anche dagli altri due ospiti, che chiameremo dopo. Sì, dopo che sei intervenuto te. Ciao a tutti, grazie a tutti per essere qui. Ecco, come ha detto giustamente Andrea, ora inizia la parte relativa al secondo tema principale di questa giornata, che è l'agricoltura, soprattutto un tema, immagino, molto sentito qua in provincia di Mantua. Allora, come diceva ovviamente, l'agricoltura, il programma regionale dell'agricoltura, come aveva detto prima Gianmarco, per quanto riguarda il programma energetico, mi metto più vicino, ovviamente seguirà le linee, a grandi linee, il programma nazionale, che è anch'esso in fase di preparazione. Tuttavia, l'agricoltura, diciamo così, è un tema anche molto regionale. Infatti, potete tranquillamente immaginare come l'agricoltura lombarda sia per forza di cose diverse, dall'agricoltura nelle Marche, dall'agricoltura in Umbria, e quindi è un tema molto regionale. E quindi ci sono molte possibilità di intervento regionale in questo ambito. Tanto è vero che ogni regione ha il suo PSR, il suo programma di sviluppo rurale, che segue poi le indicazioni della PAC europea, eccetera, ma non parliamo di queste cose. Per cui, per quanto riguarda il tema agricoltura, è molto importante, e c'è possibilità di intervento a livello regionale, quindi a livello del PSR. Il prossimo sarà nel 2020. Infatti, quello attuale scade nel 2020. Per cui, le nostre proposte, diciamo così, di programma di intervento, per forza di cose, la maggior parte troveranno poi sfogo nel nuovo PSR, che la nuova amministrazione regionale, appunto, entro il 2020 dovrà preparare. Io, come aveva detto prima Andrea, ci sono due relazioni che saranno interessantissime, e quindi non voglio togliere tempo ai nostri relatori. Io voglio solo dare alcuni numeri, proprio per inquadrare, diciamo così, l'aspetto dell'agricoltura lombarda, proprio in numeri, com'è la situazione attuale. Primo numero, le imprese agricole. Le imprese agricole in Lombardia sono, nel 2016, sono poco meno di 47.000. Le imprese, e primo dato significativo, rispetto al 2010, c'è stato un calo del 10%. Per cui, prima cosa fondamentale da inquadrare, è il forte calo di imprese agricole in regione Lombardia negli ultimi 5-6 anni. Per imprese agricole intendiamo tutte le attività connesse all'agricoltura, quindi l'allevamento degli animali, la coltivazione del fondo, la selvicoltura, quindi la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi, e le attività connesse alle imprese agricole, cioè quelle attività che dipendono fortemente dall'attività, dalla produzione, dalla trasformazione di prodotti agricoli. Quindi, primo punto fondamentale, c'è un netto calo di imprese agricole in regione Lombardia. Secondo numero, secondo me interessante, la superficie agricola utilizzata, la SAU, è fondamentalmente il campo, il terreno che viene utilizzato per l'agricoltura. Le aziende che hanno una SAU, quindi una superficie, un terreno maggiore di 20 ettari in regione Lombardia, sono 11.550. E l'estensione media di terreno per ogni azienda agricola lombarda è di 22,81 ettari, è l'estensione media di terreno. Questa estensione media è esattamente il doppio dell'estensione media delle aziende agricole italiane. Quindi, altro punto fondamentale è che le imprese, le aziende agricole lombarde hanno un'estensione in media doppia rispetto alla media nazionale. Quindi, sono molto più estese rispetto alla media nazionale. Questo è un altro punto importante. Altro punto, secondo me, importante da cui partire, fa sempre riferimento alla superficie agricola utilizzata, per capire bene. Questa superficie agricola utilizzata in regione Lombardia è quasi un milione di ettari. Di questo milione di ettari, il 70% è utilizzata a seminativi. Ovviamente questo lo possiamo tranquillamente vedere nella realtà. Questi sono tutti i dati che sono facilmente recuperabili dai siti di regione Lombardia oppure dalle presentazioni che vengono fatte dai dirigenti. Quindi, il 70% di tutti i terreni agricoli lombardi sono utilizzati a seminativi. E più o meno il 22-23% sono utilizzati a prati permanenti e a pascoli. Quindi, la porzione principale sono i seminativi. I seminativi, e noi sappiamo benissimo quali sono le colture principalmente prodotte in regione Lombardia, facendo punto di riferimento alla superficie coltivata, ad esempio, a cereali, che sono i prodotti principali. In Lombardia sono 363.000 ettari, gli ettari coltivati a cereali. Di questi, il principale, è il mais. Poi abbiamo il riso, soprattutto in alcune zone della Lombardia, e a terminare il frumento. Quindi, questo, diciamo così, dal punto di vista delle coltivazioni, dei terreni, questo è l'inquadramento generale. Abbiamo meno imprese agricole, calo di imprese agricole, imprese agricole più estese di dimensione, di territorio, rispetto a quelle nazionali, e ovviamente la coltura preponderante, superficie agricole utilizzate è preponderante, quella per i seminativi. Passiamo agli allevamenti, che è l'altra, e l'altra, diciamo così, attività fondamentale qua, in regione Lombardia. E tra questi, soprattutto, gli allevamenti bovini e gli allevamenti suini, che sono la parte fondamentale. Nel 2016, sempre, questi sono tutti, ripeto, dati di regione Lombardia, ci sono quasi 15.000 allevamenti bovini in tutta la regione. Altro dato interessante, sono in calo, rispetto al 2015, e rispetto agli anni precedenti. Quindi, come abbiamo un calo di imprese agricole, abbiamo anche un calo di allevamenti bovini. Ma, il numero di vacche, di bovini, è in aumento. Nella somma di tutti i bovini presenti in regione Lombardia, il loro numero è in aumento, a fronte di un calo al diagli allevamenti. Questo cosa comporta? Vuol dire che, gli allevamenti bovini in Italia, sono di meno, ma di estensione maggiore. Quindi, la tendenza dell'agricoltura, in generale, Lombarda, è quella di avere un calo di imprese, ma un aumento della loro estensione. Sempre, diciamo così, sempre meno piccoli agricoltori, che si sta lentamente trasformando in grandi imprese, che vanno ad assorbire, quindi, quelle piccole. infatti, giusto per, anche qui, vedere bene un dato, la media di capi di bovini per allevamento in regione Lombardia sono 133, nel resto dell'Italia sono 50. Quindi, anche qui, vediamo come la media regionale sia molto più alta rispetto alla media nazionale, che coincide col dato della superficie che vi avevo detto prima, agricola. Gli allevamenti suini, anche questi sono quasi il 50% di quelli nazionali, sono presenti in regione Lombardia e in questo, diciamo così, anche in questo caso abbiamo una diminuzione degli allevamenti e anche una diminuzione del numero di suini. Questo va parallelo, invece. Quindi, questo è per quanto riguarda gli allevamenti. Poi, giusto per finire, per non rubare tempo, volevo parlarvi un attimo dei numeri riguardanti l'irrigazione. Allora, noi in regione Lombardia abbiamo più volte posto il tema del risparmio idrico. Ok? Abbiamo visto prima nel caso delle derivazioni idroelettriche, sappiamo dei problemi che creano questo, l'utilizzazione di acqua nel settore idroelettrico, soprattutto nelle province di Bergamo, Sondrio e Brescia, soprattutto nei torrenti alpini e prealpini, e il risparmio idrico tocca anche e deve toccare fortemente anche l'agricoltura, l'agricoltura lombarda. Anche perché Regione Lombardia stessa dice in un suo documento che andremo incontro a conflitti idrici, cioè a conflitti fra l'acqua che deve essere utilizzata a monte, quindi con la produzione di energia elettrica, e l'acqua che dovrà essere utilizzata a valle per le attività agricole. E conflitti cosa vuol dire? Vuol dire che non avremo più acqua per soddisfare tutte e due, quindi o l'uno o l'altro, se andiamo avanti in questo senso. Per cui è per questo che noi riteniamo fondamentale andare ad agire verso tutte quelle opere, tutte quelle azioni che portano ad un risparmio idrico, sia a livello di utilizzo per energia, sia soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura. Ecco, qual è diciamo così l'acqua maggiormente utilizzata nell'irrigazione? È l'acqua che viene dai consorsi di irrigazione o di bonifica o dagli acquedotti e in minor misura da acque superficiali come laghi, fiumi eccetera al di fuori dell'azienda. Ma un numero diciamo così il numero importante che volevo farvi sottolineare quali sono ovviamente le superficie irrigate, quali sono le culture che necessitano di più acqua, quali sono quelle che vengono maggiormente irrigate e ovviamente la parte da padrone la fanno la cultura mais. Nella cultura mais sono irrigati 210.000 ettari di terreno poi abbiamo altri cereali poi abbiamo i prati permanenti quindi la parte preponderante di superficie agricola utilizzata per l'irrigazione è dovuta alle coltivazioni di mais ovviamente lo sappiamo il mais è una cultura che necessita di tantissima acqua. I metodi di irrigazione sono diversi fondamentalmente sono tre i metodi che vengono utilizzati in regione Lombardia per i metodi di irrigazione a sommersione che sono quelli utilizzati soprattutto per le colture del riso quindi in zona di Pavia soprattutto in cui il terreno viene sommerso avete tutti presente le risale sommerso con l'acqua che resta lì il metodo a scorrimento che invece è un metodo molto utilizzato in provincia di Brescia ad esempio in cui l'acqua viene fatta scorrere dai canali all'interno del campo e poi c'è il metodo per aspersione che invece è il metodo principalmente utilizzato qua in provincia di Mantua quindi questo è il quadro generale proprio per fare un riassunto velocissimo della situazione agricola lombarda da questo dobbiamo partire da questo dobbiamo partire per e anche da questo e dagli spunti che adesso ci vengono da queste due relazioni che andiamo sicuramente a sentire grazie grazie Gian Pietro io invito allora gli altri due relatori sul palco invito Fortunato Andreani che è architetto esperto di pianificazione territoriale e ambientale e invito Paolo Bernini che è un imprenditore agricolo dottore in economia agraria e anche ovviamente allevatore e li ringrazio li ringrazio per essere per aver dato la loro disponibilità ed essere presenti a questa giornata di studio di lavoro e di approfondimento mi fa molto piacere che abbiano accettato l'invito e quindi lascio la parola Fortunato prima voglio fare una breve brevissima premessa come ha detto come è stato detto come ho detto anche prima il nostro obiettivo è quello di calarci ovviamente nella realtà per scrivere il programma e gli spunti che ci possono arrivare dagli addetti ai lavori sono fondamentali quindi lo spirito che vogliamo mettere ascoltando le loro relazioni è questo quello che loro ci diranno secondo noi ci può dare lo spunto per recepire insieme a quello che ha detto Gian Pietro per quanto riguarda l'agricoltura le proposte in punti eventuali del programma che poi verranno discussi questo pomeriggio e poi in rete sulla nostra piattaforma russo che tutti che tutti conoscete quindi benvengano le loro relazioni quindi lascio la parola a Fortunato e intanto gli apro la presentazione buongiorno a tutti sì infatti la mia presentazione è impostata in questo modo parliamo di sostenibilità in agricoltura il tema potrebbe essere affrontato in due modi o approfondendo alcuni aspetti o alcuni impatti negativi che ha l'agricoltura e sarebbe stato anche più facile da esporre e da seguire per voi oppure fornire una panoramica di un argomento che è abbastanza vasto facendo tanti cenni a tanti aspetti in modo da fornire a ciascuno di noi degli elementi di riflessione o di conoscenza su cui poi fare una partecipazione attiva cioè proprio di poter contribuire alla stesura del programma quindi aspettate una presentazione molto ampia e su alcuni aspetti anche un po' superficiale cioè verranno forniti solo degli spunti e poi c'è anche il pomeriggio per poter approfondire quello che secondo voi vale la pena di approfondire partiamo da due punti fermi tanto per inquadrare il tema l'agricoltura è un settore produttivo sembra una banalità ma ce ne dimentichiamo perché siamo abituati ad associare l'agricoltura a un servizio il servizio di fornire gli alimenti in realtà è un settore produttivo al pari di tutti gli altri settori produttivi come le industrie pesanti le industrie leggere l'artigianato e in quanto tale ha degli impatti sull'ambiente o più che sull'ambiente sarebbe meglio parlare di capitale naturale ve lo dico subito perché se dopo lo nomino ancora il capitale naturale è una parola che racchiude nella sua ampiezza quelle che sono le risorse finite quindi acqua, aria e suolo ma anche tutti i servizi che l'ambiente dà alla collettività primo fra tutti la possibilità di continuare ad abitare il pianeta terra quindi capitale naturale per intendere l'ambiente in senso più ampio e più vasto l'agricoltura è un settore produttivo che ha degli impatti negativi sul capitale naturale ma anche degli impatti positivi come vedremo oltre a garantirci l'approvvigionamento delle merci per mangiare e per gli usi energetici detto questo l'agricoltura è investita da una serie di richieste di ridurre gli impatti negativi sul capitale naturale al pari di tutti gli altri settori produttivi cioè le aziende che un'industria che apre oggi ha bisogno di mettere dei filtri per battere i fumi dei propri camini che 30 anni fa non aveva come spesa perché anche all'industria e al settore produttivo in generale viene richiesto di ridurre gli impatti sull'ambiente non sto ad allargarmi troppo però insomma anche l'agricoltura al pari di tutti gli altri settori quindi nessuno ce l'ha con l'agricoltura in particolare però anche lei dovrà concorrere alla sostenibilità generale allora dunque io qua non vedo le slide e quindi aspetta mi sposto un po' perché non le ricordo neanche bene quindi le dobbiamo leggere insieme indietro di una per favore ok allora partiamo da velocemente dall'inquadrare i cambiamenti che hanno interessato l'agricoltura nel passato recente fondamentalmente dobbiamo ripartire dalla meccanizzazione agricola del dopoguerra la meccanizzazione agricola e la grande disponibilità energetica del dopoguerra energetica quindi sia in termini di possibilità di usare le macchine ma anche energetica nel senso di apportare input chimici in agricoltura potendoli produrre quindi i concimi i diserbanti tutti i fitofarmaci questo passaggio ha creato un cambiamento epocale nell'agricoltura prima l'agricoltura aderiva alle opportunità ambientali si dice cioè cosa vuol dire aderiva che la natura era più forte dell'uomo e bisognava riuscire a coltivare secondo i limiti e i paletti che metteva la natura stessa se una zona si allagava troppo non riuscivi a farci nulla poi invece se riuscite a livellare il terreno ribustire la rete di bonifica dei canali e di conseguenza l'uomo che prima deriva le opportunità ambientali e si è trovato più forte e quindi può utilizzare il territorio rurale come un piano cartesiano su cui attraverso gli input chimici e la meccanizzazione può coltivare fondamentalmente quello che vuole gli costa solo di più non ho ancora indietro grazie allora quindi il primo riflesso è stato la rettifica dei canali dei campi dei margini dei campi e l'allargamento delle superfici dei campi coltivati perché la meccanizzazione consentiva di lavorare in un giorno molto più terra mentre prima l'unità di misura del campo che è la biolca mantovana qua da noi altro non era che in lunghezza la capacità che aveva il bue di arare e poi riposarsi un po' per tornare indietro ok questa era adesso invece con la meccanizzazione si allargano a dismisura le dimensioni degli appezzamenti noi qui oggi parliamo di agricoltura di pianura fondamentalmente la Lombardia possiamo dividerla banalmente in agricoltura di montagna e agricoltura di pianura oggi parliamo di agricoltura di pianura l'agricoltura di pianura è l'agricoltura professionale ad elevati redditi cioè l'agricoltura fatta da poche aziende di grandi dimensioni dotate di grandi forze sia economiche che in termini di macchine e quindi è in grado di produrre reddito anche in pianura ci sono forme di agricoltura svantaggiate come per esempio l'agricoltura perurbana cioè dove l'edificazione a bassa densità cresce resta intercluso un piccolo campo oppure altre forme di agricoltura come più legate agli aspetti sociali dove magari i figli decidono di non proseguire il lavoro del padre quindi c'è il mancapto ricambio generazionale quelle sono però nella pianura lombarda sono forme residuali di agricoltura il grossissimo è fatto dall'agricoltura a elevati redditi quindi noi oggi parliamo di quelli e dei suoi impatti possiamo andare avanti gli impatti fondamentalmente sono acqua aria suolo dove per esempio per acqua intendiamo l'apporto di nitrati e fosfati principalmente cioè l'eccesso di nutrienti usati per concimare e far crescere più rapidamente il mais e gli altri cereali che non vengono assorbiti della pianta e finiscono nelle acque profonde o molto più facilmente nelle acque superficiali cioè nella rete dei canali che poi conduce ai fiumi quindi eccesso di nutrienti nell'acqua è dovuto agli apporti nutritivi che vengono fatte alle culture un altro impatto in generale è sulla biodiversità intesa come diversità di ambienti diversità di ambienti vuol dire etero eterogeneità di matrici territoriali facciamo un esempio l'agricoltura delle colline moreniche per quanto riguarda il nostro territorio è un'agricoltura di mosaico eterogenea perché ci sono intervallati i campi a cereali coltivati intensivamente i prati che sono culture estensive i boschi qualche area umida ecco questa è una matrice agricola di mosaico le matrici agricole di mosaico vuol dire diversità di ambienti vuol dire maggiore capacità di sostenere la biodiversità invece la monocultura cerealicola dell'alta media e bassa pianura irrigua è una tipologia di uso del suolo che non sostiene più la biodiversità la biodiversità per capire che cos'è bisogna pensare a tre cose tre livelli diversità di ambienti diversità di specie ricchezza di patrimoni genetici all'interno della stessa specie so che è un concetto che non è facilmente afferrabile nell'immediato perché di solito per biodiversità siamo sempre abituati siamo tutti viziati dall'idea del panda del WWF cioè è scomparsa la tigre siberiana scompare il panda perdita di biodiversità in realtà la biodiversità è un paradigma che riguarda di lettura che riguarda tutto il territorio del mondo anche la nostra pianura e non è solo legata alla quantità di specie soprattutto la quantità di specie grosse che tutti abbiamo nel nostro immaginario altro esempio per tornare sull'agricoltura e capire la biodiversità il suolo ha dentro di sé tantissime forme di vita nello strato quello più alto e lì c'è concentrata il maggior numero di specie del pianeta la maggior diversità biodiversità interspecifica per esempio tutti i batteri che ci sono i protozoi e poi gli esseri quelli più evoluti per esempio i lombrichi i vermi i ragni tutte queste cose qua ecco nel suolo c'è la maggior biodiversità del pianeta l'agricoltura intensiva che lavora con lavorazioni del suolo profonde per ogni cultura ripete la stessa cultura sullo stesso campo e da tanti apporti chimici fa sparire la sostanza organica negli strati superficiali del suolo sparisce la sostanza organica quindi fondamentalmente il carbonio che è la prima forma di vita cioè è il primo elemento che compone la vita scompare anche la cosiddetta fauna ed affica che è quella che ho detto prima tutta la fauna che c'è nel suolo per cui parlare di biodiversità in agricoltura è abbastanza complesso e di solito invece siamo abituati ad intenderla in maniera purtroppo un po' troppo superficiale biodiversità vuol dire sostenere la mobilità delle specie animali vegetali e per esempio alcuni tipi di uccelli di avifauna che abitava da sempre i coltivi l'ambiente dei coltivi e che oggi non li abita più siamo abituati a vedere nei campi di mais solo le cornacche le gazze e le volpi che sono specie generaliste cioè che potrebbero opportuniste che possono vivere ovunque e scompaiono le specie invece più esigenti dal punto di vista degli ambienti che le sostengono scompaiono anche le specie vegetali per esempio la farnia che abitava tutta la pianura lombarda e che oggi è relegata in pochissimi boschi di qua e di là per esempio nel bosco Fontana queste popolazioni animali vegetali rimangono disgiunte i patrimoni genetici delle singole popolazioni si impoveriscono perché continuano a mescolarsi tra di loro non entrano in contatto allora quando parliamo di impatto dell'agricoltura sulla biodiversità vuol dire l'agricoltura dovrebbe potrebbe mettere in comunicazione ancora le specie e sostenere le specie al suo interno l'agricoltura intensiva ha elevati redditi non riesce più a farlo non lo consente più per questo si parla appunto di impatto sulla biodiversità dell'agricoltura spero di essere riuscito sono riuscito e poi sul paesaggio questa invece è più facile da capire le trasformazioni l'indifferenza ai condizionamenti ambientali come dicevamo prima un dosso geomorfologico veniva rispettato dall'agricoltura oggi si livella per cui sono scomparsi insieme ai segni della morfogenesi della genesi del suolo sono scomparsi anche le presenze arboree arbustive che da sempre hanno caratterizzato la nostra agricoltura cioè tutti gli elementi verticali e quindi il paesaggio è mutato e sta mutando tuttora molto in fretta verso la banalizzazione andiamo pure avanti esempi di impatti sono qua per fare qualche esempio un po' più semplice l'erosione superficiale la monocultura quindi ripetere la stessa cultura primaverile o estiva tutti gli anni nello stesso posto e poi lavorare la terra ogni volta lasciare il suolo nudo lavorato per tutto l'inverno fino alla stagione successiva facilita la perdita cioè l'erosione di suolo che sembra impossibile perché di solito siamo abituati a pensare all'erosione in montagna in realtà va perso moltissimo suolo strato superficiale del suolo anche in pianura dove va? nei canali sotto forma di trasporto solido piove il terreno è perfettamente livellato e nudo la terra va nel canale e il canale lo porta via favorendo poi l'interrimento dei fiumi il trasporto solido nei fossi non ha solo il problema poi dell'interramento e dell'interrimento ma anche il fatto che non fa passare la luce sul fondo del canale quindi nel canale non cresce più vegetazione né subacquea cioè la vegetazione si dice idrofila e neanche natante cioè quella che ha le radici sul fondo del canale e le foglie in superficie proprio perché non arriva a luce altri esempi la perdita di fertilità l'abbiamo detto prima sulle acque l'eccesso di nutrienti la turbidità il consumo idrico tutte le forme di irrigazione hanno una perdita non sono efficienti sia quella per aspersione che è quella col gettone quando si innaffia col gettone perché molta acqua evapora sia quella per scorrimento per tanti motivi tra cui per esempio il fatto che i consorzi di bonifica per razionalizzare l'uso delle acque fanno la cosiddetta ruota cioè tu hai i tuoi 15 giorni tu hai 15 giorni per poter derivare l'acqua e ce l'hai dal primo al 15 di aprile non importa se è piovuto una settimana prima oppure no tu dopo perdi la ruota quindi la usi lo stesso e non serviva gli impatti sull'aria sono l'emissione ma anche per esempio l'azoto che va su gli impatti sul capitale naturale li abbiamo accennati prima è importante forse ancora parlare di dunque bisognava specificare quando si parla di biodiversità non stiamo parlando della perdita di biodiversità delle specie domestiche cioè le mucche che appartengono tutte alla stessa razza e non ci sono più le razze locali non è questo quello di cui stiamo trattando adesso ma sono le specie che appartengono al capitale naturale quelle che verrebbero naturalmente la frammentazione degli ambienti era un altro tema importante che forse prima ho saltato che riguarda questo aspetto abbiamo detto che la biodiversità bisogna almeno considerare i tre livelli diversità di ambienti di specie e di patrimonio genetici tra le specie quindi non è un argomento facile da capire la frammentazione è un po' più semplice vuol dire ci sono specie animali e vegetali che oggi vivono in ambienti naturali o seminaturali come per esempio i parchi quelli che sono già tutelati per capirci quelle vanno intese come aree sorgenti di naturalità cioè sono gli ultimi posti in cui le specie che si esprimerebbero naturalmente sul territorio sono rimaste a vivere cosa succede? che questi ambienti naturali nei territori di pianura sono andati sempre più riducendosi di dimensioni e sempre più rarefacendosi sono sempre più lontani l'agricoltura quando si diceva che può avere impatti negativi ma anche positivi l'agricoltura è l'ultima forma di tutela del suolo libero cioè l'ultimo possibile vettore che abbiamo per mettere in comunicazione specie esigenti che sono di qua e di là facciamo l'esempio della verla piccola la verla piccola che è un indice di biodiversità molto importante è un uccellino che è da sempre abitato in pianura da noi e adesso rimane solo dove c'è il prato la siepe e il bosco perché le sue esigenze di alimentazione ma anche di riproduzione prevedono che ci siano questi tre ambienti insieme se lei vive nel posto A e un'altra popolazione nel posto B e la matrice territoriale che c'è in mezzo non ha questi tre ambienti o non si sposta più quindi questa popolazione e quest'altra sono destinate la popolazione vuol dire l'insieme di individui della stessa specie che stanno in un posto sono destinate all'estinzione perché i patrimoni genetici mescolandosi tra di loro si impoveriscono si riducono diventano sempre più uguali un individuo allo stesso patrimonio genetico dell'altro all'arrivo di un attacco esterno qualunque come un incendio un nuovo parassita dalla Cina il suo riscaldamento globale tutti i patrimoni genetici della stessa specie rispondono allo stesso modo e quindi si estingue infatti l'impoverimento genetico è la premessa per l'estinzione delle specie in questo senso l'agricoltura anche di pianura può fornire un servizio ecosistemico fondamentale che è quello di ripermettere che si congiungano le popolazioni è più facile capire quelli animali come la verla piccola ma anche quelle vegetali perché ci sono le piante della pianura gli alberi e gli arbusti non tutti gli alberi e gli arbusti sono stati furbi dal punto di vista evolutivo perché il pioppo ha il seme che va negli strati alti dell'atmosfera e ricade da un'altra parte e cresce un'altra pianta di pioppo altre piante invece sono un po' più scalognate perché hanno il seme pesante che cade al piede della pianta e quindi quello lì da lì se non c'è un roditore che se lo porta in giro per 300-500 metri lì sta e quindi anche le piante rischiano l'estinzione e adesso torniamo invece a che cosa fa la politica o la società per l'agricoltura e come ci si relaziona 15-10 minuti dunque le politiche agricole si confrontano con le politiche nazionali e regionali si confrontano con le politiche agricole europee e con la cosiddetta PAC che avrete sentito nominare politica agricola comunitaria la politica agricola comunitaria è una piattaforma su cui si decide come indirizzare l'agricoltura in passato si è indirizzata verso la maggior produzione possibile per garantire che tutti avessero da mangiare già da molti decenni invece questo indirizzo è stato totalmente stravolto a favore invece di una produzione di qualità perché di scorte alimentari ce ne sono a sufficienza in Unione Europea e nessuno teme più la fame come nel dopoguerra e quindi già dagli anni 90 la riforma della PAC che introduceva concetti totalmente nuovi rispetto alla mera produzione alimentare come per esempio la sicurezza degli alimenti ma anche il benessere animale la tipicità delle filiere legandole ai luoghi la protezione dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio nel 2003 sono state introdotte ulteriori modifiche tra cui è stata introdotta la condizionalità in agricoltura che cos'è la condizionalità in agricoltura? l'Unione Europea dice noi regoliamo il mercato agricolo attraverso la PAC per essere sicuri perché è un bene di prima necessità per essere sicuri che venga svolto e prodotto nel migliore dei modi vediamo se tu sei un produttore ricevi un aiuto diretto per produrre però mi devi sottoscrivere un documento che si chiama condizionalità in cui tu ti impegni a rispettare una serie di regole che hanno a che fare con quello che abbiamo letto prima sicurezza alimentare tipicità delle filiere benessere animale rispetto dell'ambiente tu me lo sottoscrivi e quindi io dopo il scontato che se tu sei il destinatario del beneficio diretto mi rispetti questi obblighi poi ti mettiamo anche a disposizione dei soldi ulteriori che tu puoi ricevere però sono volontari quelli l'aiuto diretto l'hai già ricevuto ti obblighi a prescindere a rispettare delle regole ti diamo delle misure in più del PSR del piano di sviluppo rurale a cui tu se vuoi puoi accedere per compensare i mancati ricavi e i maggiori oneri che hai dovuto sostenere per rispettare gli obblighi della condizionalità quale misura dipende però allora il soggetto erogatore sono le regioni e i controlli spettano fino all'anno scorso alle province per molte misure da quest'anno di nuovo alla regione assolutamente sì e lo fa a diversi livelli lo fa a livello di foto aerea perché paga ogni anno un volo che fotografa l'esistente in cui si trovano le prime corrispondenze con le superfici e poi prima di pagare cioè tu hai aderito alla misura e sì prima di pagare proprio mi sa tu intanto cominci poi prima di darti i soldi vengo a vedere questo su quasi tutte le misure andiamo avanti andiamo pure avanti perché paghiamo perché noi tutti paghiamo l'agricoltura per svolgere servizi ulteriori per svolgere questi ruoli diversi rispetto alla sola produzione di cose da mangiare perché l'agricoltura svolge i cosiddetti servizi ecosistemici quindi conservano il suolo libero e consentono l'approgenamento delle risorse naturali intese anche come riproduzione rinnovamento delle risorse naturali attraverso la fauna ed Africa il carbonio viene mineralizzato prima mineralizzato poi ritorna a sostanza organica quindi l'agricoltura offre un servizio veramente alla vita e poi i servizi culturali come per esempio la domanda sociale di spazi aperti dove andarsi a fare una passeggiata o anche il mantenimento di forme di paesaggio esistenti andiamo pure avanti gli obblighi della condizionalità li abbiamo visti prima si andiamo pure avanti perché se no arrivo lungo e adesso invece passiamo allora a quali possono essere i cambiamenti la sostenibilità in agricoltura si può raggiungere ottenere a due scale quella della conduzione aziendale cioè come viene condotta l'azienda oppure su come viene pianificato e programmato il territorio nella sua interessa ad alcuni esempi semplici accennati chi pratica la rotazione cioè cambia cultura sull'appezzamento ogni anno o fa gli avvicendamenti cioè mette dopo una cultura che utilizza quello che ha lasciato nel suolo la cultura prima pratichi i riposi per lasciare rigenerare il suolo o mantiene coperto il suolo anche d'inverno per evitare l'erosione e tutti questi qua sono forme di conduzione sostenibili quindi avvantaggiano moltissimo la sostenibilità complessiva del territorio hanno il grandissimo vantaggio che non necessariamente sottraggono suolo libero suolo produttivo perché il nocciolo di tutta la questione è l'agricoltura è un settore produttivo quindi ha a che fare con la prima regola la prima logica che è quella dell'imprenditorialità del produrre reddito successivamente ha anche un ruolo fondamentale come produttrice di servizi ecosistemici il nodo di tutta la questione sta a coniugare le esigenze dell'imprenditorialità con la sostenibilità la sostenibilità a scala aziendale utilizzando delle tecniche nuove ha il grandissimo vantaggio che non sottrae suolo produttivo per cui adeguatamente compensata e indennizzata non si scontra con le logiche imprenditoriali più di tanto un'altra forma di sostenibilità a scala aziendale sono le tecniche dell'agricoltura blu o agricoltura conservativa che prevedono la non lavorazione del suolo quindi la semina su sodo o anche la fertilizzazione di precisione a scala di paesaggio invece la sostenibilità si ottiene cambiando un po' la matrice territoriale esistente per esempio facendo variare la sezione dei canali irrigui variare vuol dire un canale dritto che funziona come autostrada non è in grado di sostenere granché di biodiversità se questo canale ha delle lanche cioè si allarga in alcuni tratti dove la corrente diminuisce lì si insedia della vegetazione spontanea ed è in grado di rinnescare tutta una catena trofica perché lì possono i pesciolini possono riprodursi al riparo dal gambero americano eccetera quindi gestione del reticolo irriguo e i non sfalci sulle fasce e sulle ripe e poi le fasce tampone le introduzioni di fasce tampone che è molto importante le beetle bank se pro andare avanti che forse c'è qualche foto sì c'è qualche foto allora in alto a sinistra il territorio banalizzato che conosciamo con la monocultura mais in alto al centro la presenza arborea anche solo quella permette la vita di moltissimi per esempio insetti coleotteri che vivono nel legno sia vivo che morto che anche quelli hanno la possibilità poi di rinnescare tutta la catena alimentare a destra addirittura invece in alto a destra un ambiente di mosaico dove c'è un incolto e una siepe questo è il massimo dal punto di vista della sostenibilità dell'agevolare la biodiversità al centro a sinistra le fasce tampone che lavorano sul principio per cui se tra la fine del campo e il canale c'è di mezzo della vegetazione che può essere erbacea arboreo o arbustiva quella vegetazione aiuta ad abbattere i carichi di eccessi di nutrimenti che provengono dal campo perché mangiano con le radici nella rizosfera mangiano e assorbono soprattutto nitrati fosfati quindi riducendo gli apporti di nutrienti dentro nei canali un'altra cosa che era piaciuta tanto a Gian Pietro sono le beetle bank le beetle bank sono delle fasce erbacee lasciate o alla colonizzazione spontanea oppure seminate con sementi erbacee con semi di specie erbacee locali che vengono sfalciate una volta solo all'anno quello purtroppo è suolo sottratto all'agricoltura produttiva andrebbero previste parallele a distanza di qualche centinaio di metri uno dall'altro in mezzo alla monocultura queste strisce erbacee che sono la foto al centro a destra non so se si vede bene tra due culture ci sono due metri a prato ecco quel prato lì sfalciandolo una volta all'anno si evita che entrino dentro gli arbusti per esempio che si trasformi rimane prato però sfalciandolo una volta all'anno fiorisce quelle fioriture lì attraggono moltissimi insetti e quindi come anche per gli alberi gli arbusti sono molto favorevoli alla biodiversità e alla capacità dell'agricoltura di sostenere lo spostamento delle specie sotto invece degli esempi di agricoltura conservativa di precisione a sinistra l'irrigazione del ma lo spandimento di liquami nel mais interrandoli fila per fila con una macchina molto costosa da noleggiare però e a destra invece la semina di precisione su sodo in basso a destra che vuol dire non aro più il campo quindi conservo il mio suolo e gli strati fertili semino direttamente lì con una macchina che fa il buco e mette il seme non ho dovuto orare non ho dovuto fresare ovviamente la produzione è più bassa e l'uso dei diservanti nei primi anni purtroppo è più alto però c'è una misura del piano di sviluppo rurale che ti indennizza e ti compensa se vuoi utilizzare l'agricoltura conservativa andiamo pure avanti adesso invece qualche proposta rapidissima in tre minuti per cosa possiamo fare dunque i destinatari cioè a chi ci dobbiamo rivolgere per aumentare la sostenibilità in agricoltura agli imprenditori agricoli in che modo favorendo la conoscenza di questa necessità dell'agricoltura di essere più sostenibile oppure aumentando i premi per chi aderisce alle misure agroambientali che al momento non sono molto appetibili perché sono strutturate solo in funzione del mancato guadagno o dei maggiori costi gli enti locali che hanno anche loro un ruolo fondamentale e gli enti sovralocali per esempio attraverso la creazione di soggetti promotori cosa sono i soggetti promotori già questo piano di sviluppo rurale ma in Lombardia in maniera però molto limitata invece in altre regioni come nelle Marche è stato fatto molto meglio il soggetto promotore che cos'è è un ente parco regionale per esempio oppure lo stesso consorzio di bonifica qualcuno che dice io raccolgo tutte le domande delle misure agroambientali di chi vuole farle anzi magari vado anche a bussare alla porta a dire oh dai aderisci anche tu alla misura agroambientale lo so che dal punto di vista imprenditoriale non è molto appetibile cioè vai in pari sì e no e ti deve anche creare degli scrupoli ulteriori o dei pensieri ulteriori ma mi controllano non mi controllano però se lo fai io le raccolgo tutte e poi le metto a sistema e ti dico guarda tu che vuoi aderire sei proprio nel posto giusto nel momento giusto se invece di aderire solo a quella misura mi fai anche quella sulle zone umide e rimboschimenti ci guadagni perché prendi tre misure e sei il paladino della giustizia perché hai migliorato di molto e questo per esempio quello lì è un esempio di come valutare dove è meglio o no indirizzare le misure agroambientali sul territorio sono studi che si possono fare tranquillamente applicando degli indicatori che sono condivisi a scala europea e quindi sono abbastanza oggettivi che cosa consentirebbe di fare questa cosa andiamo pure avanti consentirebbe di dire tu che sei nel posto giusto al momento giusto prendi di più di quello che purtroppo è in una zona marginale lontano dalle zone di naturalità dove non c'è il problema dell'accumulo dei nitrati nelle acque a quello là gli diamo solo il minimo come facciamo adesso all'altro gli diamo il triplo allora si che comincia dal punto di vista imprenditoriale a diventare interessante perché c'è un margine c'è un margine di guadagno però per fare questo come bisogna fare bisogna andare in deroga in deroga perché diventa un aiuto di stato perché per la politica per la PAC tutti gli aiuti devono essere calcolati sul regime dei minimi se è mancato guadagno e maggiore costo andare in deroga però non è impossibile è una scelta politica bisogna sostenerla davanti al ministero e il ministero davanti all'Unione Europea ma questo viene già fatto però per altre misure quasi mai per le misure agroambientali agroclimatico ambientali viene fatto per esempio per l'inserimento dei giovani agricoltori in agricoltura per i vasconi dei liquami che sono effettivamente un problema grosso per il ammodernamento delle aziende al momento nessuno però ha pensato di sostenere le deroga per le misure agroambientali per lo meno in Lombardia va bene io direi che posso concludere se non sforo troppo grazie grazie fortunato velocemente lascerei la parola subito a Paolo a Paolo Bernini poi vi ricordo che al termine della relazione di Paolo ci sarà la possibilità di pranzare al bar che è qui di fronte e poi finito il pranzo che è a un prezzo convenzionato di 10 euro prenotandosi prendendo lo scontrino al bar finito il pranzo ci divideremo in tavoli di lavoro nelle due salette che sono qui adiacenti principalmente i due tavoli di lavoro saranno agricoltura ed energia e penso che fortunato riesca a fermarsi anche per questo pomeriggio quindi poi magari le domande e gli approfondimenti li valutiamo appunto presso il tavolo ecco io lascio la parola a Paolo ringraziandolo per la disponibilità mi fa molto piacere che abbia accettato perché insomma adesso vi racconterà Paolo chi è, cosa fa e anche quello che ci propone penso che sia un esempio di come poter calare il programma o la scrittura di un programma perché ripeto qui stiamo scrivendo il programma nella realtà ecco grazie buongiorno a tutti sono Paolo Bernini ho 28 anni gestisco un allevamento di vacche da latte qui in provincia di Mantua 100 capi in lattazione il latte viene destinato alla produzione di una DOP il grana padano quindi faccio all'interno di un sistema di qualità di una DOP e siccome che anch'io avrei iniziato con qualche numero come aveva fatto il nostro portavoce in regione sull'agricoltura colgo invece che ripetere gli stessi numeri voglio rispondere al signore di una interessantissima domanda che ho fatto prima io sono un allevatore ricevo un aiuto dalla regione dall'Unione Europea e questi soldi sono un pagamento diretto quindi diciamo a pioggia ci sono dei controlli la risposta è chi li fa la risposta ve la posso dare io perché i controlli li ho e li ho avuti e li avrò anche in futuro alcuni tipi di controlli vengono fatti dall'ASL quindi ad esempio io non all'elevamento annualmente mi vengono controllare il registro dei farmaci il registro dei trattamenti anche questo fa parte della condizionalità per la PAC altri controlli potrebbe venire l'ARPA quindi rispetto della direttiva ai tratti e lo smantimento dei refluzio tecnici altri tipi di controlli sono quelli che vengono fatti appunti prima dalle regioni oggi dagli stessi funzionari che erano assunti dalla regione che sono stati spostati alla regione Lombardia alle province che sono stati spostati alla regione quest'anno sono stato sorteggiato è stato uno dei fortunati in provincia di Manto sotto controllo anche per la parte che riguarda questi funzionari della regione Lombardia cosa controllano? controllano di tutto dall'anagrafe zootecnica quindi ogni capo ha un orecchino è iscritto a una banca dati corrispondono ci sono tutti ogni capo ha un suo passaporto che è una sorta della nostra carta di identità di chi è figlio di chi è nato quando è nato ci sono tutti sì no altri tipi di controlli sono la gestione di rifiuti un'azienda agricola sembra assurdo ma oggi un'azienda agricola non può andare in discarica a consegnare dei prodotti o non può mettere fuori un bidone della spazzatura perché non è tassata secondo le tariffe tasi comunali e quindi un'azienda agricola deve arrangiarsi deve chiamare uno smaltitore una ditta smaltitrice di rifiuti pagare giustamente però dico che finché è un'azienda di certe dimensioni è spinta anche a fare questo tipo di politica piccoli agricoltori piccole aziende riuscite a capire che tutto questo è molto complicato controllano appunto lo smaltimento dei rifiuti controllano anche sempre anche l'asle il benessere animale quindi come sono sostenuti i vitelli come le vacche i spazi i metri e quindi appunto i controlli ci sono almeno in regione Lombardia ci sono poi troverete sicuramente qualche articolo di giornale in cui dice che l'Italia è stata sanzionata anche dall'Unione Europea perché i controlli non sono abbastanza e questo dipende anche dai vari organismi di controllo che come sapete sono anche sono regionali quindi in regione Lombardia ha un organismo pagatore che deve anche controllare oltre che pagare e non tutte le regioni ce l'hanno ma buona parte e quindi ha una competenza anche regionale soprattutto regionale quella dei controlli niente tornando al discorso che avevo preparato se apri qualche slide io ripartirei da qualche dato qualche dato riparto quello della consistenza media che hai già accennato prima e volevo far vedere una differenza sulla consistenza media dei c'è anche il pdf se non riesci a aprire il powerpoint la consistenza media abbiamo visto che negli anni è aumentata sensibilmente io parlo della consistenza media di capi negli allevamenti tuttavia nei bovini la consistenza media è aumentata in modo meno drastico rispetto ad altri due settori molto importanti in Lombardia che sono quello dei suini e quello degli avicoli infatti mentre per i bovini siamo arrivati adesso con i dati aggiornati nel 2016 a circa 133 capi nei suini già nel 2010 rispetto all'anno 2000 eravamo passati da 600 capi per azienda a 1800 capi e negli avicoli nel 2000 eravamo a 3000 capi per azienda e siamo passati a 11.000 capi per azienda questo secondo me non è tanto a un allevamento intensivo a me non piace chiamarlo intensivo a me piace chiamarlo che secondo me l'agricoltura si sta industrializzando si sta standardizzando questo nel settore degli suini e nel settore degli avicoli cosa è successo? i redditi sono crollati ancora di più rispetto al settore del latte l'allevatore è stato costretto a dire o chiudo o cerco una soluzione per andare avanti la soluzione è stata quella di dire mi affido all'industria alimentare quindi cosa è successo? che l'industria alimentare ha fatto un'integrazione a monte cioè ha acquisito gli allevamenti e ovviamente con l'imprenditorialità dell'industria si sono trasferite quello che è successo dieci anni fa nell'industria quindi le varie economie di scale economie di settore anche al mondo della produzione primaria e quindi anche questo di settore questo sta avvenendo anche nei bovini però ovviamente le tempistiche sono diverse probabilmente se non cambierà qualcosa è quello che accadrà nei prossimi anni anche negli ambienti bovini e appunto io voglio parlare non tanto di intensivo ma di standardizzazione del processo spesso la parola intensivo è collegata a una che l'allevatore vuole aumentare il suo reddito secondo me invece l'allevatore è stato spinto a un allevamento intensivo per ricercare il suo reddito cioè lui cosa è successo si è visto portare via sempre più reddito sempre più reddito e ha sempre detto ma forse se ho dieci vacchi in più riesco a riguadagnarlo con il reddito se ho duecento suini in più forse lo riesco a recuperare uno di questi un numero che voglio aggiungere alla slide successiva è quello dell'importazione delle materie prime agricole soltanto in regione Lombardia non si sta parlando di Italia i cereali visto che siamo abbiamo detto che siamo una delle regioni più agricole d'Italia nonostante questo stiamo importando nel 2015 402 milioni di cereali ne esportiamo circa 10 milioni cioè niente ne importiamo e basta frumento duro è quello che ci si usa per fare la nostra pasta 22 milioni di euro di importazione il 72% viene dai paesi UE a 15 l'85% viene aumentando la platea o la UE 28 frumento tenero utilizzato per le farine panificati biscotti 116 milioni qui la UE a 15 contribuisce soltanto con il 44% la UE 28 si sale a 68 il mais visto che è la cultura più coltivata in Lombardia nonostante questo ne vengono importati 182 milioni ne vengono importati non dai paesi ricchi diciamo dell'Unione Europea cioè l'UE 15 che è soltanto l'11% ma ne viene importato dai paesi diciamo dell'est o addirittura extraeuropei il riso negli ultimi anni sta avendo degli aumenti di importazioni pari al più 300% anche se nonostante il valore attualmente sia molto più basso rispetto a quello delle altre culture se vai avanti c'è le importazioni anche di animali vivi 248 milioni non abbiamo abbastanza animali si vede o non riusciamo a farli i bovini che la maggior parte sono soprattutto quelli legati alla produzione di carne non alla produzione di latte la linea vacca-vitello in Italia è già scomparsa quindi si compra il vitello dalla Francia dove evidentemente sono più bravi o costa di meno farlo e poi si alleva all'ingrasso soltanto in Italia questo sta succedendo anche un po' con i suini e un po' di meno con le vacche da latte ma anche lì la tendenza è quella le carni fresche e congelate quindi la carne ne viene importata un miliardo è 122 milioni un miliardo 122 milioni soltanto in regione Lombardia le carni preparate o lavorate o anche i prosciutti o qualche carne stagionata 94 milioni prodotti lattiero caseari un miliardo 258 milioni evidentemente di latte in Lombardia non ce n'è abbastanza mangimi i mangimi il valore ne vengono importati sempre di più e il mangimi ha aumentato per esempio siamo arrivati a 725 milioni di euro sui mangimi voglio fare una piccola provocazione spesso siamo contrari alle coltivazioni UGM io non sto qui a dire giusto o sbagliato però in quei 725 milioni di mangimi che noi importiamo quasi tutto è UGM quindi io dico sempre che in Italia negli ultimi 30-40 anni non si sono mai volute fare delle scelte belle drastiche belle definitive quindi magari votiamo no all'OGM in Europa e poi ne facciamo entrare quanto ne vogliamo andiamo avanti questa è la catena del valore dati Ismea 2015 su 100 euro che voi spendete per comprare un prodotto agricolo non trasformato ad esempio 100 euro di insalata 100 euro di zucchine 100 euro di mele quanto va all'agricoltore nel 2000 andavano 17 euro e mezzo nel 2009 ne vanno soltanto 11,9 euro la fetta più grande che nel 2000 era 68 euro e nel 2009 72 euro ovviamente è la grande distribuzione i trasporti le trasformazioni in questo grafico si può anche vedere che nei 100 euro che spendiamo per i prodotti agricoli non trasformati nel 2006 euro erano per prodotti esteri nel 2009 invece 7 euro quindi un euro in più speso per un prodotto non italiano il grafico successivo questo invece ci dice quei 17 euro che abbiamo visto prima nel 2000 che andavano all'agricoltore 7,6 erano il reddito dell'agricoltore nel 2009 i 17 euro non ci sono più ma ce ne sono 11,9 e poveretto l'agricoltore ne rimane soltanto 1,5 al netto dei contributi questi invece sono i 100 euro spesi per un prodotto agricolo lavorato trasformato quindi non il latte non la verdura ma il formaggio quindi trasformato sui 100 euro all'agricoltore ce ne andavano nel 2000 8,5 euro nel 2009 ce ne vanno soltanto 6 tutti questi dati per diciamo dire che l'agricoltore se fosse arrivato a un andamento di un'agricoltura intensiva perché non tanto per fare reddito ma forse per rincorrerlo se andrei vai nella slide successiva questo è un prezzo è il prezzo del latte alla stalla con alcune differenze tra l'Italia e la Germania le due righe più sotto che quasi praticamente si combaciano sono i prezzi alla stalla dei due paesi le due righe più in alto sono i prezzi invece al consumatore la riga più in alto di tutte è il prezzo del consumatore del latte in Italia la riga diciamo metà via è il prezzo del latte al consumatore in Germania come vedete a parità del prezzo del latte alla stalla il latte viene venduto al consumatore a prezzi nettamente differenti il grafico successivo fa vedere questo andamento dal 1976 al 2016 il 2017 il 2016 qui si parla di Italia la riga blu quella più in basso che comunque cresce piano piano è il prezzo del latte alla stalla la linea rossa è il prezzo del latte al consumatore quella verde è il rapporto tra i due prezzi quindi mentre nel 1976 la differenza era minima quindi il prezzo al consumatore era per l'80% il prezzo del latte oggi il prezzo del consumatore è circa il prezzo del latte a quel prezzo che voi trovate al supermercato è circa il 20% lo stesso grafico è sulla suino pesante che viene prodotto in Lombardia qui vedete ho trovato questi dati dal 2002 al 2009 ma sostanzialmente non è cambiata e come vedete il dettaglio GDO che la parte rossa più in alto ha quasi la metà del valore che gli rimane in tasca mentre l'agricoltore si sta parlando di 15-16% che è la riga blu in basso quindi io sono arrivato dopo questa breve analisi per farvi capire in che contesto l'agricoltura si è mossa soprattutto economico negli ultimi anni ho pensato ad alcuni punti su cui la regione può incidere sull'agricoltura perché probabilmente l'importazione non è tanto la regione ma a livello nazionale e quindi ho esaminato alcuni punti che sono un problema sia per i cittadini ma anche per gli agricoltori il primo punto è quello della direttiva nitrati rispettare la direttiva nitrati per gli agricoltori non è facile come in tutte le cose in Italia si è arrivati 15-20 anni dopo rispetto agli altri paesi si è rivista un po' la situazione delle quote latte altri paesi hanno già affrontato il sistema della direttiva nitrati 10-15 anni fa noi quando probabilmente il sistema finirà ci arriveremo vicini a finirlo noi allora agronomicamente per un allevatore è molto difficile rispettare la direttiva dei nitrati non tanto perché non lo vuole fare o perché non c'è reddito ma perché anche quelle pratiche agronomiche che ha detto prima il mio relatore fortunato sono applicabili più facilmente a chi non ha carico zootenico quindi a chi non ha liquame chi ha liquame sostenere quelle pratiche agronomiche è molto molto complesso si può fare però ad esempio non possiamo avere dei vincoli di non spandimento così rigidi durante il periodo invernale perché durante il periodo invernale le culture sono ferme in riposo vegetativo la direttiva nitrati dice voi non potete spandere perché c'è più probabilità di pioggia quindi se c'è la pioggia voi avete appena sparso il liquame va nei fossi e qui siamo d'accordissimo oppure i terreni sono bagnati e non assorbono una sufficienza il liquame che voi portate però quest'anno quest'inverno non è mai piovuto ha fatto quasi due mesi a non piovere e noi eravamo fermi poi per assurdo quando il bollettino regionale diceva potete andare il giorno prima era piovuto però il semaforo in teoria era verde quindi si va come a dei paradossi diciamo il problema dei nitrati è anche soprattutto quello che gli allevamenti sono sempre più concentrati in alcune zone della Lombardia perché come abbiamo visto prima il numero degli allevamenti comunque è calato ci sono anche zone del Mantovano dove prima c'erano tanti allevamenti adesso non ce ne sono più quindi forse bisogna anche cercare di incentivare una distribuzione di questo carico delle azioni perché un agricoltore che non ha liquame compra molto più concime chimico per ottenere determinate rese di cereali e non utilizza neanche un chilogrammo di liquame a viceversa io ne uso forse troppo di liquame e dovrei cederglielo un po' all'agricoltore che non ne ha questo sulla carta potrebbe essere molto facile in realtà non è così semplice e quindi ho detto tra virgolette una banca del liquame come una sorta della banca del tempo che voi avrete proposto alcune volte quindi magari incentivare uno scambio tra chi ne ha troppo e chi addirittura non ne ha le soluzioni tecnologiche per abbattere i nitrati ci sono sono forse un po' poco efficienti o meglio quelle efficienti costano davvero tanto si parla 2-3 milioni di euro quindi capite bene che un'azienda anche che ha 200 vacche è difficile che spenda 2 milioni di euro solo per un impianto che abbatta i nitrati e lo fanno soprattutto invece quelle grossissime aziende ancora di più o i biogas associato dei biogas perché recuperano un po' il costo dell'impianto appunto producendo l'energia e quindi ho diciamo messo come possibilità quella di avvantaggiare degli impianti consortili cioè siamo due o tre allevatori medio piccoli medio grandi 2 milioni di euro da sole non ce la facciamo se siamo in 4 o in 5 e veniamo un po' aiutati può darsi che possiamo metterci d'accordo di iniziare queste attività all'umento della competitività degli allevamenti secondo me gli allevamenti italiani nonostante molti dicono che sono competitivi non lo sono abbastanza o meglio noi abbiamo sempre cercato di aumentare la competitività aumentando i numeri in Europa invece non si è fatto così alcuni paesi non hanno voluto aumentare i numeri ma hanno voluto aumentare il benessere e la sanità degli animali questo non vuol dire che in Italia gli animali non stanno bene gli animali stanno bene anche in Italia però soprattutto per quanto riguarda alcune malattie infettive che non hanno niente a che fare sulla salubrità del prodotto che poi l'animale diciamo produce quindi sono malattie infettive che non si trasmettono nella carne non si trasmettono nel latte ma siamo molto indietro ci sono alcuni piani di eradicamento però non sono finanziati e l'allevatore se non ha reddito come fa a dire spendo per sanificare la mia amandria se una vacca da latte in Italia mediamente dura 3-4 anni dalla sua nascita questi non sono dati di alcune trasmissioni trasmissioni sono purtroppo i dati dell'associazione italiana allevatori il numero di parti medio è 1,7 quasi 2 spesso è dovuto al fatto di appunto alcune di queste patologie virali che non permettono alla vacca di ingravidarsi che causano danni respiratori e quindi calano sensibilmente diciamo la sua sanità e quindi gli animali durano meno tuttavia anche fare analisi di questo tipo è sempre più difficile infatti noi possiamo avvalerci anche di alcuni istituti istituto profilattico per fare analisi microbiologiche però i tempi di risposta sono sempre più lunghi perché il personale è sempre di meno e i fondi a disposizione sono sempre di meno e se si parla da una parte in Europa di ridurre l'utilizzo dei farmaci negli allevamenti tramite cioè io ho una patologia in allevamento dovrei portare il campione o di sangue o di latte a un istituto che me lo analizza mi dice qual è quell'antibiotico che davvero funziona e io curo l'animale potete capire che questo processo si può fare se io ho la risposta in 24 36 ore perché se no l'animale cioè se io non curo l'animale l'animale gli viene la febbre e poi può portare anche alla morte quando io porto un campione ad analizzare se sono fortunato che la vacca si ammala il lunedì forse il venerdì pomeriggio ce l'ho il risultato se sono sfortunato che la vacca si ammala il mercoledì forse vado al mercoledì dopo perché il sabato e la domenica non si lavora quindi si dà un antibiotico ad ampio spretto che può darsi che funzioni come può darsi anche che non funzioni pensi che addirittura soprattutto io parlo nel mio caso anche il vitello come gli umani piccoli anziani neonati sono i più diciamo vulnerabili alle malattie infettive spesso sta male più di uno prima di ottenere il risultato e di vedere qual è quell'antibiogramma qual è l'antibiotico che davvero funziona però purtroppo i tempi sono sempre più lunghi sempre più dilattati e comunque tutte queste analisi hanno un costo si parla di 50-60-70 euro a singolo campione quindi non tutti gli allevatori sono anche incentivati a fare questo tipo di ricerca aziendale delle sue cose quindi magari anche incentivare questo tipo di cosa potrebbe portare a un abbassamento della riduzione dei farmaci ma anche un miglioramento della sanità e secondo me è lì che si deve arrivare è lì che si arriva all'aumento della competitività non all'aumento del numero dei capi per quanto riguarda il PSR come è stato detto prima volendo ci sono una montagna di soldi a disposizione dell'Europa spesso si cerca di dare un po' poco a tutti a volte forse quei soldi che arrivano bisognerebbe cercare di darli davvero a quelle tre o quattro azioni che si pensa di incentivare davvero e soprattutto io ho messo il ripartimento delle risorse tra grandi aziende e piccole aziende se voi guardate i beneficiari del PSR anche qui in provincia di Mantua l'ultimo per l'ammodernamento delle aziende agricole misura 4 ci sono state circa una novantina di aziende che hanno ottenuto il finanziamento in provincia di Mantua 16 di queste hanno investimenti superiori al milione di euro sotto i 100.000 euro ce ne sono pochissime perché perché la burocrazia e i controlli che seguono il PSR anche il piccolo allevatore che magari dovrebbe spendere soltanto 50 60 70 80 mila euro ma dice ma forse piuttosto delle scartoffe che devo preparare il consulente che devo pagare e poi il possibile controllo che non si sa quanto mi devono quanto mi fanno spendere per mettermi ulteriormente a posto per avere un 30% forse se li ho ce li metto io senza chiedere aiuto se non li ho non faccio l'investimento invece capite bene che chi spende un milione di euro se anche ha delle spese di burocrazia o di successivi controlli è più spinto appunto a chiedere il contributo quindi magari nei prossimi PSR cercare di inserire un contributo all'imprenditore in modo scalare a seconda delle dimensioni dell'investimento questo comunque senza scoraggiare i grandi investimenti che senza di quelli non si riuscirebbe a spendere tutti questi soldi che arrivano comunque dall'Europa un altro possibile metodo potrebbe essere quello dei sistemi di qualità non so quanto possa essere di aiuto per l'agricoltore perché comunque per esempio io che faccio una DOP è difficile associare una DOP che è già un sistema di qualità un ulteriore sistema di qualità però ci sono alcune realtà che anche sul latte l'hanno fatto la regione Veneto è una delle più avanti su questo sistema e queste qua sono appunto un sistema che viene chiamato di qualità verificata che chi aderisce a questo sistema in cui un regolamento regionale di pratiche agronomiche o pratiche di trasformazione dei prodotti chi rispetta queste linee guida può avere sulla sua confezione anche questo bollino e questa diciamo certificazione quindi magari anche la regione Lombardia se ne vale la pena o se individua un regolamento che vuole indirizzare determinate produzioni può utilizzare questo sistema Ora parlo del biologico perché spesso si dice che la risoluzione del problema è quello di trasformare tutte le aziende al biologico può essere vero può anche essere non vero e molti di voi avranno letto che la Danimarca già da due anni ha iniziato un programma per far diventare tutte le produzioni agricole tutte le produzioni zootecniche biologiche l'obiettivo lo raggiungono però dando non tanto soldi diretti di aiuto all'allevatore all'agricoltore ma incentivando il consumo di biologico quindi tutte le mense in Danimarca tutti i prodotti biologici tutte le mense dei militari del ministro della difesa in Danimarca tutti i prodotti biologici si cerca appunto di sostenere questa trasformazione questo passaggio tuttavia la Danimarca rispetto al nostro tipo di allevamento è forse ancora più intensivo del nostro in Danimarca c'è i suini mentre da noi una scrofa da circa 12-13 suini in Danimarca sono arrivati anche una scrofa per attorire 20-22 suini una vacca da latte qui da noi il sistema di mungitura con il robot si sta diciamo in questi ultimi due anni sta venendo avanti in Danimarca sono 10 anni che mungono con il robot quindi nonostante sia un allevamento molto standardizzato molto industrializzato ma perché il governo vuole puntare al biologico cioè invece da noi in Italia sembra quasi che i due mondi siano completamente separati cioè o un sistema bucolico pochi animali poche vacche e quindi bio un sistema intensivo tanti animali dall'altra parte loro cos'hanno? Hanno avuto in questi anni diciamo l'intuizione che non sono andati come ho detto prima ad avere un vantaggio competitivo nei numeri perché i paesi nordici soprattutto sui metri quadri per animale sono uno dei paesi sono i paesi più severi e i controlli ci sono davvero quindi l'agricoltore non poteva aumentare il numero di vacche non poteva aumentare il numero di suini però ha potuto il benessere animale quindi la Danimarca l'intero paese indenne da tutte quelle malattie infettive che noi invece abbiamo in Italia loro tutto il paese non solo una regione tutto il paese indenne quindi perché ho portato questo esempio perché secondo me se anche se si rimane all'agricoltura tradizionale convenzionale ma si inizia a tracciare un percorso ben definito in cui non più l'aumento dei numeri ma anche un aumento di questi appunto differenti modi per arrivare a un vantaggio competitivo piano piano si arriva al biologico di conseguenza un allenamento danese usa un terzo un quinto dei farmaci che usano un allenamento italiano ma non perché vuole diventare biologico perché è già di suo arrivato lì e quindi capite bene che per loro il passaggio è molto facile è molto breve per noi nonostante i fondi diretti agli elevatori per trasformare la loro azienda da convenzionale biologico siano dieci volte più grandi rispetto a quelle della Danimarca c'è molto più diciamo diffidenza ma ci credo perché se ci sono tutte queste problematiche perché un seconda una seconda diciamo provocazione la voglio chiamare è quella dell'appunto questa slide rappresenta la pubblicità che fa un noto prodotto di una industria italiana che però viene prodotto in Repubblica Ceca si chiama Gran Moravia è una sorta di grana padano fatto in Repubblica Ceca come vedete hanno tutta la filiera certificata per tutto numero di capi numero di cucette per capi rispetto dei del carico dei nitrati addirittura hanno una certificazione sull'utilizzo dell'acqua nel processo produttivo che dimostra che utilizzano mille litri di acqua in meno per produrre un litro di latte rispetto a una azienda italiana dopo lasciamo perdere che nella spiegazione c'è scritto che in Repubblica Ceca piove dieci volte di più rispetto l'Italia quindi non si deve innaffiare però insomma diciamo che sulla carta è un prodotto biologico eccezionale però viene fatto in Repubblica Ceca e quindi anche un produttore di biologico italiano un produttore convenzionale che viene spinto a trasformarsi in biologico bisogna stare attenti perché dopo una volta che è diventato biologico perché gli si dice fai più reddittività se diventi biologico poi magari deve competere con un prodotto biologico io non sto dicendo che non è biologico che però ha costi di manodopera un decimo rispetto ai tuoi costo dei terreni un ventesimo rispetto ai tuoi costo delle tasse meglio non dirlo la stessa cosa che io vi ho portato l'esempio di un formaggio c'è anche in una nota azienda che produce marmellate la rigone di asiago sono tutte marmellate dichiarate biologiche e biologiche sono però dal 92 hanno un'intera filiera di biologico in Romania e non sto dicendo che non sia biologico non sto dicendo che stanno falsificando i dati perché non lo nascondono neanche c'è anche sui loro siti internet questo è la presa dei siti internet e quindi bisogna anche riflettere su questa cosa che il biologico sia soltanto l'unica via di uscita l'unica soluzione può esserlo però diciamo che lo stesso bisogna salvaguardarci un po' dalle mille cose che ci arrivano sulle nostre tavole che non sono prodotte dal nostro territorio grazie vi ringrazio Paolo per la disponibilità e per la relazione molto interessante gli chiedo se ci può lasciare le slide a disposizione così poi verranno condivise data l'ora io chiuderei qui e ci appropriamo al pranzo vi ringrazio e vi rimando al pomeriggio in cui ci divideremo come ho detto nei tavoli di lavoro il pranzo è al bar qui di fronte bisogna prima fare lo scontrino prezzo convenzionato 10 euro e poi c'è il buffet in cui possiamo mangiare si riprenderà più o meno 14.30 15 17 19 20 23 23 24 29 44